questa era una delle prime partite diciamo gli scontri diretti ma poi alla fine sono tutti scontri diretti perché non può adesso non si possono più lasciare punti a parte forse a bulzano analizzando la partita forse non bellissima per via delle poche reti però poche reti concederne solo 13 all'avversario significa un'ottima difesa significa anche un buon portiere sì sicuramente la partita è stata un po nervosa perché anche loro credo che avevano bisogno di punti e veniva da una sconfitta fuori casa di un gol però è iniziata bene siamo iniziati molto bene difesa gli spazi non erano larghi abbiamo iniziato con dei tiri diciamo buoni per me nel senso dal da fuori e dopo quando ti carichi riesce anche tu a dare di più perché sei entri subito in partita complimenti alla squadra per la difesa ottima per voi un altro risultato utile importante torno qualche giornata fa a bulzano è fuori portata bolzano è fuori portata perché lo sta dimostrando poi chiaro non la partita con loro è stata per noi credo la più brutta del campionato insieme alla prima che abbiamo perso malo possiamo fare molto meglio e possiamo giocarcela però loro diciamo sulla carta sicuramente sono i favoriti e credo che per la regola finirà sicuramente quasi sicuramente così pressano trieste e bressanone merano dietro bolzano c'è una bella lotta e sono agguerriti adesso sabato iniziamo subito col trieste in casa io vedo molto bene anche bressanone in crescita una squadra che ha perso un paio di partite ma con degli scuola una volta c'era base squalificato una volta si è fatto male bruno merano e loro sono veramente tosti anche a merano abbiamo scontro diretto in casa per fortuna non ci sono partite per poter dire entriamo in campo come abbiamo fatto la prima di campionato che ci hanno massacrato giustamente quinta sconfitta consecutiva non è un buon momento per cassano no è vero una prestazione un po paca il risultato lo dice risultato basso non passiamo un bellissimo periodo questo è vero oggi devo dire però che ce l'abbiamo messa tutta che ci abbiamo provato fino in fondo non è bastato contro pressano così e san paolo in forma non è bastato senz'altro si arriva come dicevamo da cinque sconfitte consecutive da cosa si riparte contro avversare così a guerrite girone molto combattuto la cosa positiva è che chiunque può battere chiunque questo è forse escluso bozzano questo gioca un po a nostro favore ma anche a sfavore diciamo contemporaneamente si riparte con testa bassa e lavorare 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 e basta